Bene, oggi un sit-in da parte dei residenti per la via che va a Camporreale per discutere o quantomeno per avere delle risposte da parte del sindaco. Sì, risposte che sono state sollecitate otto giorni fa e che non sono di fatto arrivato, se non per un comunicato che ha avuto il nostro portavoce, Tommaso D'Angelo, per cui verranno collocati i semafori. In merito all'asfalto, che è la questione più importante di un tratto di 100 metri, non abbiamo alcuna notizia. Ora, il costo per asfaltare 100 metri è stato fatto un preventivo di un'impresa di circa 4.000 euro. Non è pensabile che un comune come Alcamo non riesca a trovare immediatamente una cifra così irrisoria per porre in una condizione igienico salutare questa strada. Oggi comunque voi siete qua per protocollare un altro documento che deve andare alla visione del sindaco? In buona sostanza è la stessa richiesta che avevamo avanzato otto giorni fa. Installare immediatamente i due semafori e asfaltare la strada, punto, senza ulteriormente perder tempo con questioni burocratiche. Ma in particolare cosa è successo? Perché non avete avuto la risposta del sindaco? Per questioni burocratiche oppure per questioni di lentezza? La risposta non l'abbiamo avuta e siamo qua proprio per questo motivo perché non è pensabile che tra l'altro il sindaco è responsabile dell'igiene pubblica e i residenti di questa strada stanno mangiando polvere aiosa e questo pulviscolo che secondo me non è salubre, infatti abbiamo protocollato pure questa e la manderemo al responsabile delle prevenzioni e igiene del comune di Alcamo. La particolarità allora è la polvere che si viene a creare passando tutti questi automezzi e in particolare la vostra richiesta? Sì praticamente, siamo in un tratto di strada tipo la Parigi-Dakar, siccome siamo in città non è pensabile che noi cittadini di un paese civile veniamo trattati come delle bestie, quindi non è assolutamente tollerabile che si perda ancora tempo tra le scartoffie e la burocrazia. Il sindaco faccia un'ordinanza di urgenza, 5 mila euro li trova domani mattina, se non li trova alzi la mano, mi propongo per fare una colletta, rammettiamo 10 euro ciascuno e la cittadinanza asfalta la strada. Ma non si può assolutamente tollerare ulteriormente questa incresciosa situazione.